Sono 6 milioni e 406 mila gli euro che l'assessore regionale Marielle Polito è riuscita a reperire per dare un ulteriore contributo alle città metropolitane e ai liberi consorsi di comuni per l'assistenza igienico-sanitaria, il trasporto, l'assistenza alla comunicazione e gli altri servizi agli studenti disabili. Sarà così possibile evitare l'interruzione di un servizio indispensabile per gli alunni portatori di disabilità, ha dichiarato Marielle Polito, finalizzato a garantire il diritto all'istruzione. Già da oggi, dopo la registrazione della ragioneria, saranno liquidate per prime le somme richieste dal libero consorzio di Caltanissetta, che aveva già comunicato le maggiori difficoltà economiche. L'assessore ha inoltre dichiarato che con le ulteriori risorse si raggiungerà un'erogazione complessiva di circa 32 milioni, coprendo al 97% il totale del fabbisogno comunicato dagli enti. L'assessore ha concluso affermando che le ulteriori risorse dimostrano ancora una volta la grande attenzione del Governo regionale sul tema della disabilità e si aggiungono alle ingenti somme già poste a disposizione per le persone portatrici di disabilità, allo scopo di assicurare il massimo del benessere di vita possibile.